Buonasera, abbiamo il piacere di poterci confrontare con Franco Cis. Una prima domanda, come ti sei approcciato al mondo dell'arte? La pittura è una cosa che ho sempre vissuto in casa, tramite i genitori con i loro quadri. Ho sempre avuto a che fare con la musica e dopo, nel 2011, ho trasposto la musica con la pittura e questo è un momento risultato. Per quanto riguarda la poetica, cosa ci puoi dire? La poetica deve avere un perché, usare l'ironia e la satira è una cosa che mi è sempre piaciuta e di conseguenza quello che vedete è frutto del lavoro che sto portando avanti. Ultima domanda, c'è un elemento che è lecito considerare una sorta di cifra stilistica che ti distingue e la rappresentazione dei volti delle persone trasformate in quelli di animali. Un punto di vista estetico rispetto a questo, che cosa ci puoi dire? È stato un passaggio, man mano che le cose andavano avanti, con la teoria dell'involuzione che è stato quello con le scimmie, da lì è scattata questa cosa e di conseguenza sto portando la trasposizione uomo-animale, cercando di porre l'animale giusto nel contesto giusto. È tutto basato sulla qualità e di conseguenza è un punto di vista sulla qualità, un punto di vista molto personale. Ringraziamo Franco Cis per questo intervento.